Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Ubuntu Mate 19.10. Martin Winpress, il manutentore principale di Ubuntu Mate, ha annunciato sulla pagina del Patreon dedicato al progetto alcune le nuovità che vedremo sulla prossima release. Si parte dal centro di notifica, i plug-in indicator notification è già da qualche giorno presente nelle ISO giornaliere. Lo sviluppatore lavorerà upstream per raggiungere alcune funzionalità e miglioramenti specifici per Ubuntu Mate e il lavoro sarà sponsorizzato grazie al Patreon di Ubuntu Mate. Avremo inoltre l'ultima versione di Blumen, il tool che serve per la gestione del Bluetooth, che includerà le patch specifiche di Ubuntu. L'altra novità riguarda tutte quante le versioni di Ubuntu a partire dalla 19.10, quindi non è specifica di Ubuntu Mate. Canonica ha deciso di includere i driver proprietari Nvidia all'interno dell'ISO dell'installazione. Questo causerà un aumento della dimensione dell'ISO di circa 115 MB. I driver comunque non saranno attivi per impostazioni predefinite, ma solo presenti nel pull a pitticocale per facilitarne l'installazione nel caso venissero richiesti. Non mancano poi i miglioramenti nel gestore delle finestre Marco, in Mate Window Upgrades e in Mate Panel. Soprattutto in Mate Panel c'è un lavoro molto importante. Il pannello di Mate ha subito un bug di lunga data che causava il crash quando il pannello veniva ripristinato o sostituito. Ve ne accorgevate quando andavate a cambiare il layout tramite Mate Tweak, che praticamente il layout veniva sbagliato, non veniva mancato l'incompleta configurazione del pannello, il pannello magari veniva messo in una parte sbagliata del desktop, nella parte alta anziché nella parte bassa e cose del genere. Questo bug è stato finalmente corretto e Mate Tweak è stato aggiornato per integrarsi perfettamente con il comportamento del pannello di Mate, in modo tale da consentire un switching di layout affidabile al 100%. Non mancano poi le correzioni ai temi che sono stati finanziati utilizzando il denaro ricavato da Patreon e l'ultima novità riguarda l'inclusione, o meglio, il passaggio di il cambio di applicazioni predefinite. Thunderboard viene sostituito e viene inserito Evolution e VLC viene sostituito in favore di Gnome MPV, Gnome MPV che presto sarà nominato Celluloid, quindi se in futuro lo sentite nominare Celluloid sappiate che è Gnome MPV. I motivi per passare a Gnome MPV sono i stessi del passaggio da Thunderboard Evolution, ovvero migliorare l'integrazione del desktop. Gnome MPV utilizza le decorazioni di layout client e CSD per impostazione predefinita, ma fortunatamente è possibile ripristinare il menu tradizionale e questo verrà fatto su Ubuntu Mate. Gnome MPV ha anche una migliore integrazione con MPS e si integra completamente con Sound Indicato, quindi ne gioveremo grazie del passaggio a Gnome MPV. Questo consente anche di fare un'altra cosa, consente di ridurre leggermente l'ISO, perché? Perché per esempio con Gnome MPV sono circa 27 MB di peso su ISO di installazione, mentre VLC ne richiede 70, quindi rimando Gnome MPV mettendo Evolution a possibilità, dopo c'è anche una diminuzione dell'ISO che fa a compensare l'aumento di prima che vi ho citato prima riguardante l'inclusione dei driver proprietari Nvidia. Quindi diciamo così, alla fine hanno giocato a saldi quasi invariati. Passiamo adesso a KDE. I tipi di KDE hanno giato il rilascio di KDE Plasma 5.16.0. Per questa versione gli sviluppatori di KDE hanno lavorato duramente per fornire agli utenti un'esperienza più coerente e a portare delle nuove funzionalità molto interessanti. Quella più evidente riguarda il sistema delle notifiche che è stato completamente riscritto. Adesso abbiamo una modalità non disturbare, una cronologia più intelligente che raggruppa le notifiche, le notifiche critiche delle applicazioni che adesso appaiono in un'ora schermo intero, migliori notifiche per i processi di trasferimento file e quant'altro. Andatevi a vedere, scaricatevi l'ISO di KDE Neon se volete provare subito queste novità, perché l'ISO di KDE Neon è stata recentemente aggiornata per rincudere Plasma 5.16. Migliorata poi la gestione della privacy, quando una qualsiasi applicazione sta registrando l'audio, un'icona del microfono apparirà nella System 3, quindi non potremmo essere registrati a nostra insaputa. Migliorata anche il GOOC & FEEL, le schermate della lock screen, le schermate go-in e log-out, con nuove icone, per le etichette, comportamento diverso per il passaggio di mouse, che è più carino adesso, ed è stato migliorato il layout del pulsante di accesso. Le impostazioni del sistema e dei widget sono state perfezionate migliorate, mediante il porting del codice alle più recenti tecnologie Kiergami e Qt, e allo stesso tempo è stata ottimizzata l'interfaccia utente. Non manca poi un nuovo sfondo, molto fresco, che ben si abbina la stagione estiva, sfondo che è stato deciso da tutti gli utenti tramite un concorso. Ci sono poi i consueti miglioramenti, che stanno arrivando già da qualche regrese a questa parte, che riguardano i miglioramenti per il supporto a Wyand. In questo caso è stato aggiunto il supporto iniziale per l'utilizzo di Wyand, Contraver, proprietari e NVIDIA. Andatevi poi a leggere su Marcosbox il change log completo. Passiamo adesso a Debian. Debian 10 Buster uscirà il prossimo 6 luglio 2019. Uscirà quasi sicuramente in quella data, non è una data scritta nella roccia, perché sappiamo che il team di Debian è molto fiscale, quindi se c'è qualche errore, qualche correzione da fare all'ultimo minuto, questo causerà un auslittamento del rilascio di Debian, perché Debian viene rilasciata quando è pronta. Però comunque questa data è ufficiale, perché è stata fornita dagli sviluppatori di Debian nella mail list dedicata agli sviluppatori, quindi quasi sicuramente è quella la data certa. Fra l'altro ho provato questa versione di Debian e ho visto che è stabile, quindi non vedo impedimenti di sorta. Passiamo adesso a una notizia che ha fatto molto discutere gli utenti di Marcosbox sulla pagina Facebook, ma anche sugli altri canali. Riguarda una notizia che arriva dal mondo Microsoft. Microsoft Edge potrebbe arrivare su Linux. Su Reddit, gli sviluppatori di Microsoft Edge, rispondendo alle domande di un'ama, l'Ask Me Anything, hanno dato una notizia che potrebbe interessare a molti di voi. Un utente ha chiesto di eventuali piani riguardanti il porting di Edge su Linux. La risposta dei developers è stata molto spiazzante. I developers hanno informato che non c'è alcun blocco tecnico che impedisce di creare i binari di Edge per Linux, ed è sicuramente un qualcosa che il team di sviluppo vuole fare in futuro. C'è ancora del lavoro per completare lo sviluppo di Edge, aggiungendo funzionalità e rilasciare la versione stabile per Windows e Mac OS. Quindi attualmente il team di sviluppo è concentrato su questo, sulle edizioni principali per Windows e Mac OS, per rilasciare la versione stabile il prima possibile. Ciò non toglie, appunto come detto dagli sviluppatori di Microsoft Edge per Linux, che in futuro loro vogliono rilasciare una versione per Linux e quindi di conseguenza verrà rilasciata una versione di Edge per Linux. Molti di voi hanno criticato questa scelta dicendo che tutto quello che ruota attorno a Microsoft viene visto sempre di cattivo occhio. Però diciamocelo francamente, tra un Google Chrome e un Microsoft Edge è solo scegliere a quale dei due dare i dati alla fine. Oltretutto io personalmente lo sto provando su Windows e devo dire che Microsoft Edge basato su Chromium gira molto meglio rispetto a Google Chrome. Poi Microsoft recentemente sta facendo politiche di apertura a mondo Linux, con, che avete visto nelle scorse puntate, se avete letto in blog, rilascia anche ottimo software per Linux, come ad esempio Visual Studio Code che è disponibile. Viene rilasciato da Microsoft sia in formato DEB che in RPM, con i pacchetti di installazione in DEB ed EDR-RPM, ma viene anche rilasciato, grazie ad un accordo che ha fatto Canonical, anche nel formato Snap. Quindi Microsoft si vede che sta investendo e che ci tiene a portare le sue tecnologie anche su Linux. È un cavallo di troia, chi lo sa, lo scopriremo soltanto vivendo. Passiamo infine all'ultima notizia che non riguarda il mondo Linux, ma riguarda il mondo dei gaming. La scorsa settimana mi sono recato a Barretta, assieme a mia nipote, e sono andato al Portal VR di Barretta. A Barretta, nella mia amata Puglia, un gruppo di tre ragazzi ha deciso di investire tempo, denaro, risorse e quant'altro, e ha lanciato questo progetto Portal VR. Che cos'è? È un'esperienza di gioco free home virtuale nella quale insieme ai nostri amici impersoneremo una banda di gato intendo di amitare una delle più importanti band di New York. E lo faremo, lo faremo in questa realtà virtuale. Ci muoveremo, questa esperienza di gioco ci consente di muoverci all'interno di uno spazio di 400 metri quadri liberi dalle limitazioni tradizionali, dei cavi, limitazioni tradizionali che affliggono il VR, se avete giocato con le varie console sapete di che cosa mi sto riferendo. L'esperienza di gioco consiste in questo modo. Praticamente a ogni giocatore viene dato uno zainetto, uno zainetto che contiene una custom build con un i7, una scheda video Nvidia 1080 e 16 GB in RAM, questa si interfaccia con i server di Portal VR, questo viene collegato a un visore e due controller, un controller che viene messo sulla mano sinistra che ci consente di interagire con i pulsanti in gioco. E per evocare per esempio gli obiettivi di gioco, in un momento tutto senza fili, tutto wireless, ci muoveremo liberamente in questi 400 metri quadri, in queste mappe virtuali che vengono create, che sono state create, l'esperienza di gioco è molto coinvolgente. Ci sono due tipi di esperienze di gioco, quella da livello singolo che dura circa mezz'ora e poi c'è il secondo episodio che consente di aggiungere un'altra mezz'ora circa di gioco. Io ho fatto l'esperienza, quella da mezz'ora, quella soltanto del primo livello con mia nipote, era la prima volta che utilizzavamo il VR quindi avevo paura anche che magari potesse dargli fastidio con fenomeni di nausea e quant'altro, però a nessuno ha dato fastidio, l'unico problema che abbiamo avuto è stato quello del caldo. È molto bella questa sensazione, è molto particolare perché ci si immedesima completamente, ci si dimentica quasi di stare indossando questa attrezzatura. Siamo presenti in gioco virtualmente, ma sentiamo proprio di essere lì, proprio perché è molto coinvolgente, perché c'è l'esperienza sia sonora che visiva. Dicevo, gli unici ostacoli che noi abbiamo sono i muri della stanza dove ci muoviamo, in questi 400 metri quadri, che comunque sono tutti perfettamente integrati nelle mappe di gioco, quindi molto spesso nella mappa di gioco se abbiamo un muro nella mappa di gioco è un muro fisico vero e proprio. Comunque non c'è il rischio di farci male perché all'interno del gioco gli ostacoli fisici ci vengono comunque segnalati, quindi ci viene avvisato tramite una cosa in game, un muro virtuale, ci viene segnalato il muro virtuale che corrisponde a un muro fisico, quindi non c'è problema di farci male andando a sbattere quella. Per maggiori informazioni vi invito a leggere l'articolo, la mia esperienza di gioco, al quale ho legato anche un link al canale di Parliamo di Videogiochi che ha realizzato un video che meglio spiega come funziona questo tipo di gioco, questo tipo di esperienza perché non è sotto a lungo, è proprio una vera e propria esperienza di gioco. Molto bello, consiglio a tutti quanti di farla. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!